Un importante emendamento è stato presentato da lei al Parlamento, alla Camera dei Deputati, un emendamento che riguarda le tv locali medio-piccole per tentare di salvaguardarle con i contributi. Sì, è una lotta che porto avanti da un anno, da quando appunto le associazioni che rappresentano le piccole media tv mi hanno contattata. Io credo che queste piccole media tv debbano essere tutelate perché sono una risorsa per il territorio, fanno la vera informazione che riguarda il nostro territorio ed è per questo che ho voluto presentarlo sperando appunto che il governo lo accolga, ma comunque sia metterò tutto il mio impegno affinché il Ministero dello Sviluppo Economico capisca l'importanza della tutela di questo settore. Grazie. Grazie.